C'è per l'osso che non è neanche per questa questione, per tutto quanto c'è dietro? Sto dicendo che mi interessa in caso, perché ci prendo tutti i nostri soldi, ci sono due milioni e mezzo, voglio giustificare. Finora, per adesso mi è passato tranquillo, però da c***o lo vedo eh, Giappone, Russia, p***o! Ma quanto ne vendi le magliette? Dimmi la verità. Beh, ho fatto un milione di euro in 6 mesi, dai, ha 17 euro l'una, quante sono? Beh, un po', dai. La filpa la vendo io, la pago 7 euro, la vendo 34, i negozi la vendono 100. Grazie. 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 Grazie.